Ah 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 Con i cwam e cari la popisante Vanaglia87 Vi da il benvenuto a questo nuovo video Uno speed build Già perché mi è stato gentilmente fatto notare da mia cugina che la volta scorsa avevo decisamente detto male la parola build, quindi grazie per avermelo fatto notare e quindi adesso avrete capito chi è l'ignorante in inglese delle due Ora, in questo video vedremo la ristrutturazione di un altro buco, perché si, questo è peggio del primo video che avevo fatto praticamente gli studi Medina 910 di in pratica l'appartamento di Salim Ben Ali, perché ho scelto questo appartamento, anzi questo buco 2.0 Oddio perché non sono capace a fare gli speed build anche, ma soprattutto perché all'inizio quando avevo creato, avevo registrato il primissimo video di speed build avevo scelto proprio questo appartamento perché mi ispirava comunque era piccolo, cercavo di riuscire era il primo video, quindi era anche una sorta di prova solo che continuando a registrare mi ero accorta che quasi verso la fine mi sembrava di non aver fatto un buon video o comunque un buon lavoro quindi ho stoppato la registrazione poi ho cambiato quelle alla fine dopo ho cambiato quelle due o tre cose che non mi piacevano e alla fine l'appartamento era venuto pure decisamente caruccio oddio, per i miei gusti era caruccio magari per cosa ci fa schifo e allora mi sono detta perché no, devo rifarlo per forza ci tenevo, mi era venuto abbastanza bellino quindi spero che anche in questo video venga bene e non mi sono andata neanche a rivedere come cavolo l'avevo fatto vabbè che dire iniziamo san, ni, ichi via e l'occhio i e e e e e e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.